Venerdì 20 di maggio, giornata di scioperi nazionali per diverse categorie in tutta Italia. Una delle categorie che oggi incrocia le braccia è quella dei corrieri postali SDA. A Roma è previsto un presidio nazionale davanti alla sede di poste italiane. A Pesaro oggi hanno manifestato davanti alla sede SDA di Strada dei Cacciatori i lavoratori e affiancati dal presidio Filt CGL. Come vedete bandiere e proteste al vento, ora vi faremo sentire le motivazioni di questa protesta, le motivazioni di questo sciopero, mentre come vedete alle mie spalle gran parte dei furgoni SDA oggi sono fermi aderendo al diritto di sciopero. Allora, innanzitutto per il contratto nazionale autisti riguardante le poste e gli autotrasportatori, perché ci sono stati prima accettati e poi sono stati rifiutati, e quindi per questo motivo a Roma c'è lo sciopero nazionale autisti, prima cosa. Poi per alcune cose riguardanti specificamente la nostra filiale, quindi per la molla di lavoro, per i carichi, per le varie penali che vengono fatte secondo alcune giuste, secondo alcune ingiuste e via discorrendo. Manca un confronto con Poste Italiane che è l'azienda padrone e che non si confronta mai con il mondo dei corrieri, con i corrieri, quindi non si riescono ad ottenere diritti e miglioramenti sulle condizioni di lavoro che è pessime e praticamente diritti inesistenti che ancora nel settore degli autotrasporti solo i corrieri non hanno, perché i corrieri non sono descritti come categoria, quindi per questo ci marciano. Quasi tutti, anzi tutti i corrieri, gli autisti consegnatari in Italia non dipendono dal marchio che portano addosso, sono sempre dipendenti di un fornitore che ha un contratto. Questo sciopero qua in particolare, la giornata di oggi, è comunque riferito proprio a Poste che è proprietario di SDA e non tanto riferito alla nostra azienda in quanto fornitore. Chiaro che le rivendicazioni che facciamo in base a turni di lavoro, carichi di lavoro e quant'altro, le dobbiamo necessariamente rivolgere alla nostra controparte che è il nostro datore di lavoro, però chiaramente bisogna che senta, che dia ascolta le nostre richieste anche Poste ed SDA in quanto sono loro i capofila. Quello che oggi noi stiamo vedendo, il primo sciopero dei corrieri di SDA, potrebbe essere un riflesso di quello, anzi è un riflesso a ragione di quello che oggi è la filiera Amazon, che ha drogato tutto il comparto della logistica e dei trasporti, quindi i competitor che stanno sotto ad Amazon, che in una logica di rapporti di forza Amazon è molto più forte, devono adeguarsi a quello che appunto Amazon richiede e questo è un risultato di quello che poi accade praticamente al lavoratore.